Rilanciare la tradizione scacchistica dell'istituto e confermare quanto di buono è stato fatto in questi due anni per il liceo sportivo con l'escalation delle iscrizioni. In quest'ottica si inquadra l'iniziativa di oggi dedicata agli scacchi nell'aula magna dell'istituto di istruzione superiore Lucio Piccolo di Capodorlando. Qui gli studenti delle classi prima A e seconda A del liceo sportivo hanno assistito ad una lezione tecnica di scacchi tenuta dagli istruttori dell'ASD Gioiosana Scacchi che milita nel campionato di A1. Questo è il terzo anno e le iscrizioni stanno andando alla grande nel nostro liceo sportivo, posso ritenermi veramente fortunata. Questa è una delle numerose attività che quest'anno sono state fatte nel nostro liceo sportivo. Io sono orgogliosa di dire che è l'unico della provincia di Messina, è un liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Cosa significa? Che i ragazzi hanno sei ore di attività sportiva che vengono effettuate con degli istruttori federali. I ragazzi la mattina vanno in piscina e durante l'anno abbiamo avuto gli istruttori di tennis, gli istruttori di basket, gli istruttori di parlavolo e anche di scacchi. Noi quest'anno ci presentiamo con sei squadre al 5 marzo a Milazzo e quindi sono due allievi maschili e una femminile, due allievi juniors e una femminile. Speriamo di arrivare fino alla fine, insomma alle nazionali per come è da tradizione di questo istituto. Ci hanno contattato innanzitutto perché credo che vogliano partecipare con un certo numero di squadre maschili e femminili ai giochi sportivi studenteschi che si terranno il 5 marzo all'istituto Majorana di Milazzo e per questo è necessario che si testino attraverso una società scacchistica. È un gioco un pochino complesso perché i movimenti sono diversi dei pezzi sulla scacchiera e giustamente bisogna imparare e soprattutto avere la passione.